Antonio Pompilio, antica trattoria, San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Perfetto, come sta andando il corso? Ti sta piacendo? Interessante, tanti spunti veramente interessanti, qualcosa da applicare anche subito, non appena torno a casa. E la parte del sito web, specializzarmi e soprattutto implementare delle nuove soluzioni per avere comunque maggiori clienti. Perfetto, quindi nel complesso lo consiglieresti a un collega, a un amico, nelle tue stesse situazioni con un'attività? Sì, sì, assolutamente, lo consiglierei proprio. Bene, grazie mille.